Tu puoi essere straordinaria, ma devi lasciarti plasmare. Insieme cambieremo il mondo. Cercano di incolcarci da secoli e secoli la convinzione che siamo nati malvagi. Per questo occorre il sacrificio di pochi per salvare molti. In nome di un futuro migliore. È tempo di schierarsi. His Dark Materials. Queste oscure materie. Dal 1 gennaio su Sky. Grazie a tutti.